Bocca al lupo ragazzi! In bocca al lupo ragazze! Ci vediamo quando entrate! Ragazzi, in bocca al lupo a tutti della serie Root Bro Spaccato To' Vi volevo fare anche gli auguri da parte sua... Beh, da parte sua... Ciao ragazze, ci vediamo presto, mi raccomando, in bocca al lupo! In bocca al lupo! In bocca al lupo ragazzi! In bocca al lupo! Siamo fatti così, con il sangue quale liquido vitale, siamo fatti così, muscoli scattanti, sempre scalpitanti, siamo fatti così. Ragazzi, ricordate che per superare il test serve questo, questo, ma soprattutto, questo! Siamo fatti così, siamo proprio fatti così, viaggia solo in poca meno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Lucia hai sbagliato pubblicità! Ah sì? Ah già, ragazzi, in bocca al lupo! Siamo fatti così, siamo proprio fatti così, e scoprirlo fuori, esplorando il tuo mondo. Un corpo umano, siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Ciao ragazzi, vorremmo fare il test suonare in bocca al lupo, mi raccomando, studiare, eh! Ragazzi, ricordate che la medicina si sbidette pure! In bocca al lupo, ragazzi! Eeeh! Mi raccomando in bocca al lupo! Siamo proprio! Ciao ragazzi, volevo farvi un in bocca al lupo per il proseguo della vostra carina universitaria e per il test che andrete a fare. dentro abbiamo il cuore, un solido motore, siamo fatti così. 32 bei denti candidi e splendenti, siamo proprio fatti così. Questo nostro corpo è meglio di un computer, vedrai. Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. E scoprirlo poi, esplorando il corpo umano. Dottore! 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 E scoprirlo poi, esplorando il corpo umano. C'è chi in passato ha buoni dolici, io presto morire di questi ingressi. Avete capito di dire. Però purtroppo, per quest'anno, i due ci sono e non possa fare altro che un duvano di un giudice in bocca al lupo da parte di questo signor. Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Siamo fatti così. Muscoli scattanti, sempre scalpitanti, siamo proprio fatti così. Con il nostro corpo è meglio di un computer vedrai. Siamo fatti così. Mescoli europe. 3, animali till Conference 1, 2, 3, ascio ino... In bocca al lupo. Un esperto, benimleopfo, canali i due ci sono e non voglio di andare bene bene bene. Un esperto,iona lента.